Ragazzi buongiorno, siamo a Pesca self casting oggi, siamo in compagnia della troupe di Sky, stiamo facendo le riprese per la nuova stagione a Pesca dalla Riva, qui abbiamo Graziano, in fondo Peppe Chiumeo, stiamo provando a insediare Murmore orate, oggi saremo qua a Bea Felice, domani ci sposteremo in zona Ponte Cagnano per provare ancora a surf e poi in settimana andremo a pescare la cola bolognese finalmente, in questo momento Graziano sta facendo un'intervista a Peppe Chiumeo, abbiamo preso per il momento soltanto due pesci, però la serata ancora deve arrivare, siamo qui per pescare le Murmore e vediamo un attimo cosa si dice nelle prossime ore, ok ragazzi, poi ci saranno delle anteprime che pubblicherò, così le potrete anche voi vedere, ok, perfetto, alla prossima!